Proseguiamo, grazie al sottosegretario di essere nostro ospite a questa tavola rotonda. Di fatto abbiamo fatto il primo giro di opinioni, abbiamo visto quanto è importante nello sviluppo di questi nuovi farmaci basati sulle cellule, è importante mettere in atto un tipo di sviluppo nuovo, quindi accompagnare sempre la ricerca in tutto il loro sviluppo e quanto è importante mettere in atto modelli di business differenti. Abbiamo visto due o tre esempi di modello pubblico privato e abbiamo visto il ruolo dell'industria. Abbiamo sentito l'opinione dell'industria farmaceutica italiana, speriamo tutti in una sua resurrezione perché è sicuramente un motore, come diceva stamattina Sergio Donpè, irrinunciabile per noi. Vediamo anche però il modello dell'accordo con la multinazionale, la big big, come dicevo prima con la dottoressa Pasinelli. Vorrei che riprendesse un attimo la dottoressa Pasinelli a parlarci un secondo, un ultimo commento proprio velocissimo e flash su questo accordo perché vuol dire, questo significa che saremo in mano ancora alla multinazionale? Diciamo che anche prima abbiamo sentito l'esempio di Abiogen, è chiaro che le dimensioni economiche per la fase di sviluppo sono tali da far pensare che solo grandi aziende se lo possano permettere. D'altra parte un segnale molto bello secondo me è quello che sta avvenendo in generale da tutta la scoperta del farmaco, la messa a punto del farmaco perché è finita l'epoca del farmaco, del cosiddetto blockbuster che andasse bene per milioni e milioni di pazienti allo stesso tempo e soprattutto le terapie che abbiamo visto oggi sono terapie diciamo per le quali comunque si andrà sempre su nicchie di pazienti molto piccole e dove quindi la capacità di piccoli enti di ricerca, di mettere a punto prove di concetto diventerà fondamentale anche per la big pharma per poter accedere al nuovo farmaco, quindi è finita quest'epoca, non è un caso che un'azienda come GlaxoSmithKline disinvesta in Italia nel senso che chiude, ha venduto il proprio grande centro di ricerca e nello stesso tempo invece investa in Italia attraverso l'identificazione di una nicchia di eccellenza che possa costituire volano per l'ingresso in una nuova tecnologia. Secondo me per l'industria italiana questa potrebbe diventare l'opportunità perché siccome l'Italia è piena di aree di eccellenza che possono sviluppare conoscenze uniche e in fondo molto competitive nel panorama internazionale, se abbiamo perso il treno una volta forse adesso potremmo riprenderlo partendo da questi nuovi modelli di sviluppo che sono di modelli di sviluppo dove è piccolo e bello in fondo. Grazie dottoressa Pasinelli, colgo l'occasione di avere il sottosegretario con noi per dirgli allora in questo sistema paese a volte così scricchiolante abbiamo sentito la testimonianza di quanto la regione Lombardia stia facendo nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di questa nuova biotecnologia e noi che siamo gente di azienda nella regione Lombardia lo testimoniamo. È molto importante però che accanto a quello che sta facendo la regione Lombardia per le aziende, la regione dimostri proprio che c'è un sistema paese dietro. La mia azienda l'anno scorso ha perso una commessa importante, la mia azienda è un'officina farmaceutica autorizzata da AIFA nell'ambito di queste terapie avanzate e l'anno scorso abbiamo avuto l'abbocco di questa azienda australiana che doveva fare una fase 3, quindi l'ultimo stadio della ricerca clinica nell'uomo di una terapia cellulare e sta in Europa e quindi ha fatto un giro di aziende farmaceutiche autorizzate in giro per l'Europa e Aretta era uno dei candidati. Siamo arrivati alle fasi quasi finali e alla fine il progetto invece l'ha preso il Fraunhofer Institute di Lipsia, semplicemente perché il governo della Sassonia ha offerto a questa azienda di sostenere al 50% i costi dello sviluppo clinico e la città di Lipsia ha offerto a questa azienda australiana laboratori gratis per un paio d'anni. Mi scusi la provocazione ma è una provocazione molto positiva nel senso che io sono positiva di natura e quindi spero che la prossima commessa magari non la perdiamo. Le dico subito che nell'accettare di sedermi qui e sedermi volentieri sapevo che non sarei sfuggito a qualcuna di quelle che lei chiama provocazioni perché queste mi pare sono opportunità a doppio senso, a doppio binario. Io ho detto senza ipocrisia che è un piacere essere qui perché mi dà l'opportunità di cogliere e poi di testimoniare a tutta l'ente regione una novità e un percorso. Certo anche la presenza dell'ente regione può essere un'opportunità per confronti di idee o battute come questa. Non c'è dubbio che in Lombardia, nelle regioni che non è soltanto questa la Lombardia, che non possono godere dei fondi europei di cui possono godere altre regioni d'Italia e altri paesi d'Europa, immagino che l'Ipsia sia tra queste, le possibilità di sostenere con risorse economiche rilevanti le imprese siano scarsissime. Credo, tanto per parlare di cifre importanti, che buona parte delle risorse che il Ministero metterà a disposizione nei prossimi mesi e nei prossimi anni, proprio perché sono risorse che giungono vincolate all'Unione Europea, vadano alle regioni di quello che una volta si chiamava obiettivo 1 e poi ho perso il conto delle modifiche nominalistiche ma non della sostanza, nelle regioni di Calabria, Puglia, Sicilia e Campania, dove è possibile, da noi sarebbe impossibile, allocare questo tipo di risorse. Qui si può contare però, diciamolo pure, su un clima del quale la pubblica amministrazione è un attore ma non sempre un protagonista positivo su un clima però felice e fattivo perché c'è qualche infrastruttura in più, sia pure largamente insufficiente al bisogno, c'è una vocazione come cercavo di ricordare, ma voi siete le protagoniste e non io naturalmente, c'è una vocazione alla ricerca, alla conoscenza ma anche ad intraprendere, c'è un'attitudine invece al lavoro e questa ci coinvolge un po' tutti, che sono degli obiettivi fattori di successo o di competitività e che forse altri paesi o altre regioni d'Europa non hanno. Alla fin fine se la regione Lombardia è uno dei quattro motori d'Europa, se il Presidente Formigoni ha potuto far base qui a quel nuovo organismo World Regions Forum al quale ha chiamato a partecipare le 15 regioni barra stati più importanti del mondo in termini economici ma credo anche in termini di economia della conoscenza è perché la regione Lombardia è ritenuta, io stesso ne posso dare atto nelle mie poche puntate all'Unione Europea per conto di regione, un soggetto autorevole, una comunità credibile e forte. Certo bisognerebbe poter fare di più perché è vero le nostre imprese europee, sia quando si tratta di commesse da sviluppare in Italia, sia quando si tratta di esportare prodotti all'estero, soffrono di avere alle spalle un sistema paese meno forte, meno strutturato di quello, tanto per parlacchiavo tedesco, col quale obiettivamente facciamo fatica a confrontarci sotto ogni profilo, anche perché il peso della Germania nell'Unione Europea è più forte del peso dell'Italia, anche perché, come dimostra l'attuale tendenza delle politiche monetarie, la Germania la fa da leader e noi li corriamo dietro. Grazie Sottosegretario, l'impegno comunque noi l'abbiamo visto nelle sue parole, quindi questo per il futuro ci conforta molto. A questo punto ci sono domande, abbiamo ancora qualche minuto, se ci sono domande dal pubblico, non abbiamo parlato di proprietà intellettuale, non abbiamo parlato di regolatorio, potrebbe venire qualcosa dal pubblico. Olga Capasso che ci vuole fare una domanda. Ma non voglio parlare di proprietà intellettuale, volevo fare un commento a quello che ha detto la dottoressa Pasinelli come ultima cosa, piccolo e bello. Sono profondamente d'accordo con questa valutazione del fatto che la ricerca oggi esige dei centri iper specializzati e specializzati e quindi per definizione piccoli. Quello che forse il devo dire che il sistema paese, faccio fatica anche a pronunciare questo slogan, comunque quello che forse la comunità politica e culturale dovrebbe aiutare è di fare in modo che poi questo piccolo non venga come accade, del tutto fagocitato da industrie che come abbiamo già analizzato stamattina sono assetate di nuove tecnologie. Quindi la comunità politica e culturale deve assolutamente farsi forte e fare in modo che poi queste realtà piccole rimangano e possano produrre nuova ricerca. Perché secondo me nei prossimi dieci anni potremmo vedere degli esempi di uscita, di cose che al momento sono molto preziosi. Io le valuto dal mio punto di vista di consulente e vi posso dire che sono molto preziosi e molto appetibili. Una nota rassicurante rispetto a quello che ha detto lei che ovviamente condividiamo perché questa era stata la nostra preoccupazione. In tutto l'accordo con GSK non c'era proprietà intellettuale che sia stata ceduta, ma stiamo parlando, e questo per esempio è un segnale molto interessante, di una tecnologia che è stata messa a punto negli anni da molto lavoro accademico, quindi con una proprietà intellettuale dispersa, in alcuni casi anche già invecchiata diciamo. Quindi quello che è stato sicuramente il vero successo di questa operazione è avere garantito che la ricerca che è stata prodotta fin qui dia un risultato tangibile ai pazienti e quindi ci sia una risposta alla comunità dei pazienti, visto che il Teleton vive raccogliendo fondi promettendo di portare una risposta e se non fossimo stati in grado di arrivare a una risposta questo non era possibile. E poi soprattutto lo scambio è tale per cui continua a venire denaro per la nostra ricerca accademica e noi abbiamo garantito la possibilità diciamo di cedere il risultato clinico e quindi di avere la possibilità di sviluppare la terapia che per le malattie orfane è protetta diciamo dalla disegnazione di farmaco orfano, ma noi rimaniamo proprietari di tutta la nostra tecnologia e questo è diciamo alla base di questo accordo è un dato importantissimo, quindi tutta la tecnologia futura che svilupperemo, noi manterremo tutta la proprietà di questa cosa, che è un aspetto molto importante. Io se posso intervenire credo che il riferimento che faceva Aunga Capasso fosse al grosso pericolo che le cosiddette piccole imprese ad alta tecnologia diventino nano, ma non nel senso di nanotecnologie, ma nano imprese e cioè perdano negli anni il know-how e assolutamente il grande valore aggiunto che sono riuscite magari ad accumulare grazie a intuizioni di qualcuno. In questo senso credo di interpretare l'appello verso chi ci governa in senso regionale, nazionale, proprio perché questa grande dispersione di conoscenze non avvenga. Questo se ho ben interpretato il tuo commento. Grazie Gianna, c'è la dottoressa Bovi? Una cosa velocissima, prima di venire qui dato il tema ho fatto un giro di ricerche. Mi sono imbattuta in una notizia, diciamo proprio dell'altro ieri, di un'azienda americana che si chiama CDI, che è Cellular Dynamics International, che annunciava a Fiera di aver ricevuto dal congresso un milione di dollari da investire in quattro progetti. Questi signori sono dei grandi produttori di tessuti e cellule, tessuti umani per test sui farmaci e li useranno per ricerche sui neuroni, creazioni linee cellule staminali, eccetera, eccetera. Questi soldi vengono da un progetto, da un fondo che si chiama IRS, creato dal congresso americano, sottosegretario che dice, che va al massimo, è una sorta di concorso, ha un premio di massimo 240 milioni e mila dollari per ogni progetto e possono partecipare esclusivamente, ecco perché lo cito, le aziende che non hanno più di 200 addetti. Quindi piccole aziende. In tutto il governo americano distribuisce così un miliardo di dollari l'anno. Beati loro che ce l'hanno perché sono in crisi, naturalmente, ma sempre meno di noi. Però credo che sia un po' un modello, forse effettivamente, per salvaguardare questo genere di eccellenze. Certo, prego. Una delle prime attività che io ho svolto, nominato dal Presidente, all'inizio di questa legislatura, sottosegretario nel tema appunto di università e ricerca, è stata la conclusione di una serie di azioni avviate nei mesi precedenti o negli anni precedenti, che era ormai tempo di chiudere. E dico, cioè, di una serie di bandi con risorse economiche messe a disposizione di progetti di ricerca o di trasferimento tecnologico ad imprese o a centri di ricerca e università lombarde. debbo qui testimoniare che questi bandi, che, ripeto, ho contribuito a chiudere, facendo le selezioni e mettendo le risorse a disposizione e non a istituire, si rivolgevano esclusivamente alle piccole e medie imprese lombarde, cioè alle micro, alle piccole, alle medie imprese. E non può che essere così in una regione, la nostra, che, come sapete bene, ha un numero di imprese piccole o piccolissime che è il 90-95% di tutto il numero delle aziende presenti. E sotto questo profilo, dunque, l'impegno, sia pure con risorse economiche molto più limitate, a sostenere nei suoi processi di ricerca e sviluppo l'impresa, la piccola, la media, la piccolissima impresa, è già nelle code di Regione Lombardia. Tra l'altro, complessivamente, non si tratta di risorse banalissime, perché il Presidente Formigoni, nel concludere un po' questa fase con una cerimonia presso il Pirelli alcune settimane fa, alla fine di settembre, e cioè nel consegnare il cosiddetto voucher, per ricerca o di altro tipo, a circa 500 soggetti che ne avevano, che ne avevano, diciamo così, avuto diritto, è riuscito a mettere insieme più di 80 milioni di euro, che non sono una risorsa banale, almeno per il bilancio regionale. E, insomma, se le parole che mi sono permesso di esprimere prima a Leggio costituiscono un orientamento, una sincera e convinta strategia, devo dire che le azioni concrete di Regione Lombardia sono coerenti con queste mie parole e, come in questo caso, vanno anche oltre, consentono di testimoniare una scelta che, ripeto, non può che essere soprattutto a favore di quelle imprese che più faticano a trovare le risorse per le ricerche o addirittura più faticano a trovare la strada per la ricerca e quindi a prendere contatto con istituti di ricerca o sedi universitarie di qualità. A volte, questo lo facciamo con altri soggetti, penso alla nostra presenza in Fondazione Politecnico, noi contribuiamo anche, sia pure in maniera molto limitata, allo start-up di nuove imprese. Ma questo è un altro capitolo che certamente non mette conto a affrontare alle ore 14. Grazie. Grazie mille. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui questa tavola rotonda ringraziando i panelist, alcuni dei quali, se non tutti, sono comunque in sala durante tutta la durata della conferenza e quindi a disposizione del pubblico. Ringraziamo Gianna Martinengo e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di Women and Technologies perché, come Gianna Martinengo ha detto, è solo l'inizio questo di una serie di iniziative rivolte ad affrontare questi temi così importanti dei nuovi farmaci. Grazie a tutti. Grazie.